Prendi il via giovedì 15 giugno è il calendario della festa della mattonata Città di Castello per concludersi domenica 18. Un programma all'insegna della musica e del buon cibo che animerà l'intero corso Vittorio Emanuele. A presentare stamani il programma il presidente della società rionale Sauro Baldelli, coadiuvato dal giovane Davide Zucchini. Anche quest'anno la società rionale mattonata ha veramente organizzato una serie di serate veramente interessanti. Si parte da giovedì 15 con il raduno Bikers e Music Queen Live, poi venerdì 16 FGB Live e poi più tardi nella serata il party 80-90 presso il Torrione, sabato Symbio System e poi a seguire 88 Folli Live e la domenica DJ Set, Dani B e poi dei amministratori condominali Live. Tutte le serate poi ovviamente saranno arricchite dalla cucina della mattonata. Un'altra interessante collaborazione sarà l'aperitivo con il bar La Piazzetta e poi come dicevo dalle 20 sempre l'apertura della Taverna dell'Oca. Ovviamente aspettiamo numerosi i cittadini sia di Città di Castello che poi però anche delle altre località. È una festa d'estate ovviamente rispetta sia il centro storico e il suo contesto, però tende appunto all'innovazione e anche alla tradinnovazione direi. L'assessore al turismo e commercio Riccardo Carletti ha invece spiegato il ritardo della presentazione del cartellone di eventi estate in città, di cui la festa della mattonata fa parte. Ritardo dovuto alle numerosissime richieste dei commercianti, la presentazione è comunque attesa per fine giugno.